La bassa bresciana a cuore la salute del proprio territorio lo si evince dalla risposta ieri data alla chiamata del gruppo di cittadini attivi Conoscere e partecipare che ha organizzato presso il teatro Memo Bortolozzi un dibattito con esperti e consiglieri regionali sui temi ambientali. In primo luogo, focus sul caso Finchimica, arrivato in regione grazie ad un'interrogazione dei consiglieri Paola Pollini e Onorio Rosati. Ad oggi non abbiamo ancora ottenuto risposta. Quello che è il nostro intento, anche la giornata di oggi, è essere qui, recepire quelle che sono le istanze del territorio per poi sollecitare ulteriormente la regione perché si attivi. Su Finchimica a giorni dovrebbero arrivare i risultati delle ultime analisi effettuate da ARPA che stabiliranno l'entità dell'inquinamento da pesticidi e sostanze altamente tossiche. Ma oltre alla questione dell'azienda di fitofarmaci, a spaventare questo territorio il consumo di suolo e l'espansione della logistica. E la proposta emersa ieri è che la società civile si dovrebbe fare promotrice di una proposta di legge popolare su questo tema. Il fenomeno sta scoppiando in modo molto irruento e quindi è necessario metterci mano e quindi chiediamo alla politica di provvedere perché la logistica sta diventando un argomento speciale. La logistica richiama mano d'opera di fatto piuttosto dequalificata che arriva dall'estero ma tutto ciò se è in grosse quantità e qui parliamo di grosse quantità allora provoca ricaduta immigrazione di dimensioni. Allora pressioni sulla residenza, sui servizi sociali, scolastici, sanitari e quindi tutto ciò diventa come una bomba importante per la legge che non può essere lasciata così allo spontaneismo. La Lombardia è al vertice del consumo di suolo in Italia quindi più grave che da noi non c'è da altre parti. Il consigliere regionale Davide Casati intervenuto al dibattito sul tema del consumo di suolo e logistica ha sostenuto la necessità che Regione Lombardia acquisisca il ruolo di regia sovracomunale per la pianificazione. Grazie.